su anna luisa andremo a creare un look liscio assoluto effetto specchio super lucente utilizzerò shiny brightly 119 che è uno spray che crea un film protettivo attorno al capello che aiuta a respingere totalmente l'umidità dopo aver asciugato il capello a circa l'ottanta per cento sezione per sezione saturo la lunghezza e le punte prendo delle sezioni di circa 4 centimetri di altezza e vaporizzo il prodotto dalla base alla punta fino a rinumidirlo completamente massaggio leggermente con le mani per far penetrare al cento per cento il prodotto su tutta la lunghezza dopo aver finito di inumidire tutta la testa con il mio prodotto procedo con l'asciugatura con l'aiuto di una spazzola piatta una volta finita la pre asciugatura abbiamo già ottenuto un buon risultato ma ricordiamoci che è un prodotto a termo attivazione quindi è essenziale il passaggio della piastra con sezione di circa 2 3 centimetri di altezza passo la piastra dalla lunghezza alla punta lentamente sezione per sezione ripasso il pettine grazie a tutti Con 119, un vero celebrity's look. Con 119, un vero celebrity's look.